Come pregare e pregare? E fa un esempio, paragona costa all'esercizio spirituale, all'esercizio fisico o anche all'esercizio, possiamo aggiungere, che viviamo per imparare una certa arte, magari a suonare uno strumento. Quindi c'è un modo ordinato di procedere nell'esercizio, non perché così si voglia, si debba poi rimanere legati semplicemente a un'esteriorità, ma è perché facendo che progressivamente cambiamo, è facendo gli esercizi, mettiamo al pianoforte, che poi diventiamo veramente degli artisti e poi possiamo anche muoverci creativamente, liberamente. Gli esercizi sono quindi in un certo senso sicuramente anche una certa tecnica, ma anche un'arte, e l'arte non esclude la necessità di apprendere comunque degli strumenti, dei mezzi, dei cammini. Quindi l'esercizio che Ignazio ci offre è un esercizio intanto che ha un suo tempo, una sua durata, ogni esercizio ha una sua durata, un suo inizio, una sua conclusione, perché ci sia una pausa e perché poi ci possa essere un altro esercizio. E anche ci sono dei passi attraverso cui l'esercizio si svolge come una sorta di processo, non dei passi meccanici che sono lunghi, che debbano avere una durata, una lunghezza predefinita, però dei passi che ci dicono di alcune componenti che devono un po' tutte essere presenti nell'esercizio di preghiera. E innanzitutto si tratta di sentirsi, porsi alla presenza di Dio. Capiamo che questo è l'inizio fondamentale. Ogni preghiera cristiana comincia con una liturgia di ingresso. E qui l'esercizio, essendo una preghiera individuale, personale, ci permette anche una certa creatività, libertà nel vivere questa piccola liturgia di ingresso. Ma è importante che io mi senta in un tempo, in uno spazio speciale. Forse che senta, come rivolta a me, anche le parole che Dio dice a Mosè quando si avvicina al roveto ardente, togliti i sandali, siamo in un luogo nella preghiera in cui non siamo noi ad avere il controllo, a gestire le cose. Questo è il momento iniziale che può essere anche molto lungo, o invece può essere molto breve se già ci sono queste disposizioni. Questa consapevolezza che non siamo noi ad avere il controllo a determinare che cosa avverrà nella preghiera si esprime successivamente nel chiedere a Dio la sua grazia, i suoi doni. Noi comunque siamo chiamati a metterci la nostra parte, il nostro impegno, a vivere l'esercizio, come dicevamo prima, anche con alcuni strumenti, alcune procedure. Ma tutto questo è in realtà un prepararci e disporci perché la grazia di Dio possa essere e trovare accoglienza dentro di noi. Questa grazia di Dio che va sempre al di là di quelle che sono le nostre attese. Possiamo anche dire che gli esercizi sono un cercare e trovare. Tutto quello che io faccio, questo mettermi alla presenza di Dio e poi vedremo meditare, contemplare la parola, è come un cercare, ma poi a un certo momento trovo qualcosa e questo trovare non ne appartiene a me, non è che io l'ho programmato, previsto. Quindi il momento centrale è l'apertura della parola, proprio per cercare nella parola, perché io possa meditare, contemplare la parola, non come una parola scritta solo duemila anni fa, ma come quella parola che mi trasmette oggi la vita del Signore risorto. attraverso la parola oggi il Signore mi parla. E allora quello che io cerco a un certo momento diventa qualcosa che trovo. In un punto o nell'altro sento che qualcosa dentro di me avviene, che viene illuminata una parte della mia vita o che ricevo la risposta a una questione che da tanto tempo era aperta dentro di me, o che mi viene proposto un passo in una certa direzione che mi costa, ma che sento che è il Signore che me lo chiede. Sono tante, veramente innumerevoli le possibilità. E qui è poi importante che io possa confrontarmi con la guida, proprio anche per capire meglio ciò che è avvenuto nella preghiera. Ma di certo ci sono dei movimenti che riguardano la nostra affettività, il nostro cuore. La preghiera non è mai solo una dimensione dell'intelletto, della volontà. Deve toccare il cuore, proprio perché è lì che poi è il centro della nostra vita e delle nostre decisioni. Allora da qui scaturisce in maniera spontanea un dialogo con il Signore rispetto a quello che è avvenuto, che ho colto, che mi è stato donato. Un dialogo che in certi casi può anche durare, essere praticamente il contenuto di tutto l'esercizio. Può darsi che in un certo momento della mia preghiera, della mia vita, appena io comincio l'esercizio, subito, senza bisogno di passare attraverso i passi precedenti, si apra questo dialogo cuore a cuore con grande intensità. Allora quello è veramente il frutto più importante della preghiera. L'esercizio ha in ogni modo un suo tempo determinato. Anche se io mi trovo in una situazione molto coinvolta, di grande emozione, di dialogo con il Signore, è bene non prolungarlo al di là di quello che si era previsto. Non siamo noi a decidere che cosa il Signore vuole donarci. Prolungare vorrebbe dire quasi un po' voler impossessarsi dei doni del Signore. E dopo la conclusione dell'esercizio, è importante che in un altro atteggiamento, in un altro luogo, io ripensi, rilegga quello che ho vissuto, perché è attraverso questa rilettura che tante volte mi accorgo di come il Signore ha lavorato nel mio cuore. Come in vari passi della Bibbia ci viene ricordato, è alle spalle che noi riconosciamo al Signore, come anche i discepoli di Emmaus che sentono scaldarsi il loro cuore, ma dopo poi ritornano e rileggono l'esperienza caduta. Quindi tutto il processo della preghiera, che poi si declina in tante modalità diverse, e questo processo che inizia con l'ingresso nella preghiera e poi termina, dopo la conclusione dell'esercizio, secondo il tempo stabilito, con questa rilettura per custodire e poi anche poter condividere con la guida i frutti che ho ricevuto nella preghiera stessa. Grazie a tutti.